Ciao ragazzi, questa è una challenge che abbiamo fatto io, Anima, Awed e Francesco Posa e spero che vi piaccia e vi dico che domani alle 19.25 su Sky 1 ci saranno nuove puntate di Social Face in cui ci sono anche io. Vi lascio il video, ciao! Dai Francesca, continua a soffiare, sul libro delle challenge c'è scritto che ne devi fare 60 per squadra 60? Palloncini per squadra? Eh sì, 60 per squadra, dai continua a soffiare Ma qua c'è scritto schiavo? Sì, dai, su, coraggio! No, no, no! Non è facile Uno Ho usato un bello spuntone, però Io gioco in questo, questa la poso e ce la faccio Sulla mano, lo sapevo Poi a metà challenge ho detto vabbè dai, usiamo lo spuntone perché volevo giocare in modo pulito Butta degli elementi di disturbo in campo Ma che è sta caponata? Ma non funziona Nascondigli quelli verdi Nascondigli quelli verdi Nascondigli quelli verdi Ma andate via Ma non fare col pensaglio Che sensore E volevi vedere come continuava? Vabbè dai domani alle 19.25 su Sky 1 Vedrai com'è finita la puntata E ti ricordo che domani alle 14 esce il mio versus bello Ciao!